Allora signori, i gattini hanno finito di ingozzarsi di tonno, avevo messo lì da piatto perché non potevo stare troppo tempo lì a stare a guardare, comunque sono venuti tutti quanti a mangiare, pure quelli tre nuovi, mostro il nero lì in mezzo, però non si fa avvicinare da me, perché con me non ci lega tanto, perché è da poco che ci conosciamo. Qui c'è la madre autodottiva con la quale manco ci parla tanto, perché lei è nata poco, sta pure con i suoi figli. Comunque tornando al fatto della scatoletta, allora signori, secondo le leggi che ho letto, una scatoletta del genere, questa è il tonno all'olio, quindi buttarla nell'immondizia, la deve lavare, sia questa che la cosa. Ma signori, la cosa che fa ridere, no? Che questa qui, così non può essere buttata, ma non solo questa, ma pure altre cose, no? Prima di buttarla deve essere lavate, ma tanto per farvi capire, dopo una cosa che l'hai usata, è cosa, e non ci puoi fare l'uso e getta, e te la pigli e te la devi lavare, no? Io non mica la butto, io mi ci innamoro, mi la tengo a casa, non so se ce l'avete capito, no? Io non, cioè, per farvi capire, no? Cioè, io la uso, la cosa, poi me la devo lavare, allora perché la devo buttarla, no? E io la uso, che ne so, come portamatite, come portacosa, io ci ho riparato, la stambella, cioè, metto in descrizione i video che ho fatto, no? Che nessuno, praticamente, si andava a guardare, no? In cui, ho usato un paio di queste, no? Per ripararci, la cosa del, come caspillo si chiama, quello fa, il coso del, gianna, c'è la miseria, Cosa dove si mette le stambelle per i vestiti, no? Se si è scassato, io con un paio di queste, lavate, no? Cioè, l'ho riparato, tanto per farvi capire, no? Ma le leggi, che stanno dicendo, no, devi pigliarlo e poi devi lavarlo, quindi buttarlo via, eh? Allora, adesso, punto, che caspillo hai, no? No, vabbè, te ne fate capire. Eh, sì, è una legge un po' di assurdo, però, allora, signore, cioè, la roba si mette in dà, a queste scatolette di metallo, perché sono migliori, questa è meglio di quella di vetro, meglio di quella di cose, meglio di tutti quanti, però ci stanno solo i fatti che questa, eh, è a scatola chiusa. quella di Veto a me la puoi vedere come sta l'affare invece questa qui quando uno lo compra questa è la scatola chiusa cioè solo dopo che l'hai aperta ti puoi accorgere se t'hanno fatta la fregatura oppure no ecco appunto non c'è la vetrinetta ci puoi fare un sacco di discussioni comunque spero di avervi fatto analizzato fate un giro sul canale tanti saluti e Vodomar